Lo stadio Bonolis, la casa del Teramo Calcio, è al centro di una complessa trattativa tra il comune e il gestore dell'impianto, Franco Iachini, che lo gestisce dal 2019 tramite la società Soleia. L'impianto che comprende anche una parte commerciale oggetto di una convenzione stipulata nel 2006 e che presenta diverse criticità. Da anni infatti lo stadio è motivo di critiche, proteste e polemiche da parte della tifoseria Biancorossa e della cittadinanza. Per cercare di risolvere la situazione il sindaco Gian Guido D'Alberto ha avviato a novembre un dialogo con Iachini con l'intento di arrivare alla risoluzione della convenzione e una separazione della gestione sportiva da quella commerciale. In questo modo il comune potrebbe avviare un nuovo percorso per la gestione della struttura sportiva che dovrebbe tornare ad essere principalmente al servizio della squadra di calcio della città. Stiamo pagando tutti, come ho detto già da diverso tempo, una convenzione impostata male, scritta peggio e attuata in un modo che oggi crea tutta una serie di problemi legate evidentemente a delle scelte politiche sbagliate del passato. Ancora una volta stiamo cercando di risolvere problematiche che vengono da lontano e stiamo valutando già da diverse settimane, abbiamo adesso approvato un atto di indirizzo chiaro in giunta, le modalità appunto per risolvere questa convenzione e aprirci anche con un accordo transattivo, ovviamente con l'attuale concessionario, ad una nuova fase, una fase successiva che passi in questo periodo transitorio anche per questa separazione tra la gestione sportiva e la gestione commerciale per poter restituire lo stadio, la parte sportiva della città. Iachini da parte sua è disposto a cedere alla gestione ma chiede in cambio il rimborso di quanto investito dal 2019 sia per l'acquisto della convenzione che per gli interventi fatti allo stadio. La cifra complessiva si aggirerebbe sui 4 milioni di euro. L'obiettivo è proprio quello in questa fase di accordo di separare la parte commerciale che deve essere completata, perché non dimentichiamo che al momento non è ancora stata completata con le opere previste dalla convenzione iniziale, tante sono ancora allo stato grezzo e questo è assolutamente inaccettabile che si chiuda questa vicenda con un immobile restituito al comune incompleto e parallelamente la parte sportiva possa essere affidata in concessione restituita alla città, alla comunità, soprattutto e non solo alla squadra di riferimento della città.